Una tre giorni di grande jazz ispirato alle sonorità nordiche con un foco specifico sulla Norvegia è quello andato in scena nel Parco Nazionale della Sila nell'ambito della 17esima edizione del Peperoncino Jazz Festival. Per il settimo anno consecutivo infatti i Monti e la Sila sono stati lo scenario ideale per queste tre giorni iniziata con il concerto dei Svante e Katrina Harrison, proseguita con la musica dei Tricksame Quartet e conclusa con il concerto di John Bulk. Tra gli intenti del nostro festival c'è quello della produzione del territorio e quale più bel territorio se non quello della Sila e poi la musica che abbiamo scelto per queste location è viceversa location scelte per questa musica insomma sono nate naturalmente, sono nate istintivamente proprio perché la Norvegia richiama il territorio della Sila e infatti lo sostengono anche gli artisti nostri ospiti che si sentono quasi a casa suonando qui da noi. È un evento che si ripete, ormai abbiamo un pubblico di appassionati serve anche per far conoscere, per vedere in una luce nuova questi luoghi e per assaporare un'atmosfera indimenticabile perché all'imbrunire in questi boschi ovviamente l'esperienza è unica ecco.